Siamo sul ciglio della strada provinciale 231 in prossimità di Terlizzi in direzione Bari ed è proprio qui in questo punto che si è arrestata la corsa della Dacia dell'automobile che questa mattina intorno alle 7.30 ha travolto e ucciso sul colpo un operaio di soli 22 anni. Alla guida dell'automobile una donna di 45 anni residente a Corato che per cause ancora in fase di accertamento probabilmente a causa di un sorpasso azzardato ha travolto in pieno l'operaio che era intento a sbandierare, a segnalare i lavori più avanti sul ciglio della strada. Il povero ragazzo è stato sbalzato per circa 60 metri finendo rovinosamente sull'asfalto e morendo sul colpo. La corsa dell'auto si è poi arenata in questo punto ancora altri 20 metri circa più avanti sbattendo contro il guardrail. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare, sono stati ritrovati ancora più avanti addirittura dall'altra parte della carreggiata il suo caschetto e il suo orologio a testimonianza del gravissimo impatto. Sono ragazzi che stanno qua, sono di un'altra nazione però hanno voglia di lavorare. Oggi era l'ultimo giorno, dovevano terminare qua ma disgraziatamente non c'è stata fortuna. Io sono il più grande, il papà. Sono 58 anni, sono il papà e il nonno di ragazzi. Un collega più grande che si sente un padre che oggi piange la morte di Gabriel, questo il nome del 22enne, a cui solo ieri dispensava consigli. Ieri mattina disse che da dietro i cami ce la fanno perché vanno i mezzi pesanti che vanno piano e quelli sbucano da dietro perché vanno piano. Non girandolo con perché vanno piano perché c'è un pericolo avanti. Questo è il punto dove è avvenuto l'impatto, il punto esatto in cui il ragazzo del 2001, quindi 22 anni, si trovava appunto a segnalare la posizione dei suoi colleghi proprio per evitare che i suoi colleghi operanti sul ciglio stradale fossero impattati delle automobili. Ed è proprio qui, vedete quanto lontano dal punto in cui poi si è fermata effettivamente l'automobile che ha impattato sul corpo del ragazzo ed è proprio qui che è appunto avvenuto il tragico incidente. Grazie a tutti.